amici ieri eccoci qui apriamo altri cinque pacchetti di calciatori 2017 2018 ancora dobbiamo trovare il talloncino con scritto hai vinto per le bustine quelle particolari allora apriamo la prima io sta cresta la conosco e non mi sbaglio è amsic iniziamo subito bene troviamo amsic nella passata spacchettamento come potete vedere che poi sulla it informazioni troverete la playlist di calciatori 2017 2018 abbiamo trovato mertens la maglia e gulam sempre del napoli poi troviamo buccia del verona lukaku della lazio che sfortuna questa volta non è vinto purtroppo questa volta l'evento bene il venezia lo scritto del venezia del lentella e in più troviamo la maglietta dell'atlanta e troviamo subito uno della magica troviamo con alons della roma poi troviamo armando izzo del genoa rafael del cagliari che sfortuna va bene troviamo tre calciatori del bari e la figurina della formazione del pescara terzo pacchetto troviamo parigini del benevento andano isce dell'inter pavlo pavlovic del crotone anche questa volta non abbiamo vinto la formazione della ternana e tre calciatori del provercelli poi troviamo thomas rincon del torino l'ulice della lazio atembor dell'atalanta che sfortuna francesco zampano e il pescara che questa sicuramente è tre calciatori pescara una e tre giocatori pescara un'altra questa è doppione sicuramente quella dolce è fiorillo quindi al primo doppione della stagione poi troviamo per la felicità dei diposi del milan che per adesso non abbiamo ancora manco una figurina abbiamo trovato romagnoli poi acervi del sassuolo immobile della lazio ma guardate qua ragazzi hai vinto hai vinto è la prima volta ragazzi ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto all'ultimo pacchetto di questo spacchettamento ho vinto bene così vedremo anche come sono fatte queste bustine poi troviamo la maglietta del bologna e tre giocatori dell'ascoli adesso partiremo con il cello mi manca eccoci qua pronti con il cello mi manca che sarà sicuramente un più cello e mi manca e più non mi manca che non ce l'ho allora abbiamo trovato subito la maglietta dell'atalanta con il numero 6 che mi manca anche se un doppione già ho visto che c'è c'è sicuramente un doppione in questo spacchettamento poi troviamo la numero 12 delle precedenti poi del Benevento con il numero 52 troviamo Parigini poi troviamo con il numero 62 la maglia del Bologna poi il 95 il portiere Rafael del Cagliani poi 154 quindi saltiamo parecchie pagine arriviamo al Crotone e troviamo Pavlovich poi 203 della Fiorentina ancora abbiamo trovato nessuno 203 del Genoa Izzo poi 244 del Verona abbiamo trovato Bucel Bucel ho detto Bucel Bucel mi pare si pronuncia comunque va bene come se pronuncia di pronuncia 262 troviamo Andanovic dell'Inter la troviamo 322 Lukaku 328 Lulic e 336 Immobile andiamo avanti passiamo al Milan 344 Romagnoli 384 Hamsik e poi della Roma troviamo la 409 che è Gonalons Sassuolo 456 456 eccolo qui di Acerbi poi 524 del Torino eccolo qui che è Lincoln poi 567 invece andiamo in Serie B andiamo all'Ascoli ecco qui ecco qui poi del Bari 587 che mi manca qui sotto e poi adesso arriviamo al primo doppione più avanti vi faccio vedere qui c'è la formazione pescara 678 che mi manca e poi c'è il primo doppione che è quello qui che è Fiorillo Pigliacelli e Campagnaro questo è il primo doppione della stagione poi abbiamo 681 che mi manca sempre del Pescara ok poi abbiamo il Provercelli con il 689 che mi manca 708 maternale poi abbiamo lo scudetto del Venezia e dell'Entella con il 715 A e B A è quello del Venezia e B è quello dell'Entella ok ragazzi io vi saluto a tutti mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete già iscritti che faremo molti video su calciatori 2017 2018 ciao a tutti a tutti a tutti